Ciao ragazzi, ben ritrovati, Realiente di Football qui a cercare di creare del calcio Inter stellare per voi Oggi ragazzi lunedì, da poco usciti il pool big time del Bayern Monaco Che ovviamente non ci interessa, per noi che giochiamo solo Inter Ma è una giornata importante, in realtà quella di ieri è stata una partita importante In realtà forse sabato perché ovviamente col 5-1 dell'Inter sul Monza Ci aspettiamo almeno un giocatore dell'Inter nei player of the week Uno tra probabilmente Lautaro e Cialanoglu Speriamo possa essere una nuova carta degna di essere inserita nella nostra build all-time Inter Prima di fiondarci sul campionato ragazzi abbiamo il solito giro gratis che io faccio insieme a voi Così possiamo vedere, in realtà anche se c'esce Giulio Cesare ma non credo che sia diverso da quello che abbiamo Però tentare non nuoce, vediamo chi ci esce oggi Canzone normale, questo quindi fa capire che non è un giocatore leggendario Ne lo potete capire, non so se lo sapevate già ma si può capire molto facilmente dalla canzone che parte Da un'occhiata a questo pack perché immagino poi ci sarà un pack del genere anche per l'Inter probabilmente 150 ragazzi i giocatori sono tantissimi però Se esce una cosa del genere è difficile poi investire monete anche se ne stiamo accumulando pian pianino Andiamo però adesso direttamente al campionato, non ci sono cambiamenti negli 6 di form Perché ovviamente questi avvengono di giovedì Ripartiamo dalla seconda divisione con... abbiamo cominciato con un pareggio in seconda divisione Per un 2-2 dove Kohler ci aveva devastato Controlliamo, diamo un'occhiata alla formazione e poi ci siamo ragazzi Si parte per nuova settimana Divisione 2, soliti 300 punti La stagione ce ne servono un po' meno 287 ce ne servono per passare in prima scalata Che è stata alquanto complicata la stagione scorsa Non mi aspetto una maggiore semplicità a questo giro Perché purtroppo, in realtà non purtroppo sotto alcuni punti di vista In realtà direi fortunatamente il gioco si è reso un po' più competitivo con queste fasce A mio avviso quantomeno Perché poi ragazzi parliamoci chiaro Alla fine il campionato è l'unica cosa da fare per adesso nel gioco E fin tanto che sarà l'unica a renderla almeno un po' complicata Terza divisione Venezia Welsh Wizard, quindi il mago gallese direi Andiamo a vedere subito i nostri ragazzi Vedo un Teo sugli scudi per gli avversari Il nostro Adrianone Informissima insieme a Lautaro Questo è quello che ci piace vedere Cordoba Ma vediamo un attimo ragazzi gli attaccanti dell'avversario In base a quello decidiamo se giocare Cordoba o De Vrij Centrale, c'è Fratesi che come al solito Ultimamente sta sempre bene Perché in stato A Turama invece no Ma con quell'Adriano e Lautaro Purtroppo Turama non avrebbe visto spazio Sanchez non c'è spazio neanche per te Vediamo gli avversari Griezmann, Neymar, Forlan Io se questo è il Forlan epico Tra l'altro di AB anche Superveloce, trequartista Più di qualche nera azzurro Barella, bastoni, quadrato, Sommer Io direi ragazzi che la sostituzione la faccio Anche perché Cordoba sta in forma meglio di De Vrij Facciamo così Le marcature ragazzi non le dimentichiamo come al solito Quindi marcatura stretta su Neymar Da un lato e su Griezmann dall'altro Anche se Griezmann è più una seconda punta che un EDA Va bene così Tra l'altro è quello se non sbaglio dei contratti mirati Quindi un giocatore che possiamo prendere molto facilmente con Diciamo gratuitamente col contratto mirato Senso dover spendere tante monete per cercarlo Per questo insolito Inter-Venezia Primo episodio di questa settimana ragazzi Vediamo di finire un bel andazzo per il resto della settimana E l'Inter a battere il calcio d'inizio E si parte Subito Mycon è partito fortissimo L'ha data a frattesima C'era Adriano che era partito ragazzi Che era completamente da solo e libero Mamma mia Barella che capisce tutto Si va da Cialanoglu Scende col pallone Servito Lautaro Ancuna per Ciala C'è Barella che fa una grande copertura in questo caso Bravo Di Marco all'anticipo Poi Ciala a servire con una palla deliziosa Lautaro Poi Lautaro col destro Mamma mia ragazzi Rientra il capitano Forse e dico forse Un tiro a giro sarebbe stata la scelta migliore Con quella palla allungata e lo spazio ragazzi Non ci ho visto più Calciato fortissimo Sommer Servire Teo Fernande sulla sinistra Poi Neymar Barella ancora all'anticipo E Adriano può andare Cercare Ciala in area che calcia E c'è il gol dell'Inter Qui un po' inaspettato Tiro abbastanza debole ragazzi Ma quando vedo Sommer In porta avversaria Calcio molto di più Perché Purtroppo è questa la verità Che Sommer in estensione È troppo troppo debole E purtroppo Ne approfittiamo così Con Lauti che prova A fare la sponda qui Non riesce Barella in chiusura Perfetto Poi c'è la Noglu Riparte ancora l'Inter con Lautaro Poi Frattesi a servire Adriano Che a campo Calcio col sinistro La risposta di Sommer E Teo Fernandez Che spazza Al dodicesimo L'Inter Ancora a chiamare in caso Il portiere Svizzero Poi Maikon Rimessa la trale per Frattesi Ancora per Douglas Maikon Che se ne va Supera Teo Il cross al centro La palla spazzata C'è Neymar Che prolunga Poi Barella Non riesce ad arrivare su quel pallone Anche Bastoni un po' in ritardo E allora Quadrado Bravo Maikon a recuperare Poi il lancio sbagliato C'è Frattesi Prova a tenerla Il passaggio in avanti È però fermato Allora Teo Fernandez Ancora col pallone Cross al centro E arriva La testata di Forlan La torsione Dell'attaccante uruguaiano Che non c'entra la porta però Poi Bastoni Che va direttamente a Di Marco Che ha un po' di spazio Si fa dire nello spazio Cialanoglu Visto e servito Cercare l'autima C'era in realtà Frattesi molto più vicino Bastoni Nasce pallo al piede Poi Pavar All'anticipo Cercare Adriano Mamma mia Qui l'autaro Non riesce a dare questo pallone Altrimenti De Bruyne Di AB Il cross al centro Bastoni attento Poi Cialanoglu Cercare Adriano Ancora l'anticipo Prova a cercare Lautaro Poi Bastoni ancora Lautaro 1-2 Con Cialanoglu Lanciato Lautaro Palla al piede A cercare Adriano Fermato da Teor Hernandez Che fa una gran diagonale difensiva Barella Chiamato al colpo di testa La palla è recuperata da Quadrato Che riesce a servire Forlan Pavarin Scivolata Bravissimo Serve frattesi Prova a ripartire L'Inter Poi Lautaro Che prova ad andare Di nuovo ad Adriano Che tiene Prova a tenere Abbata Bastoni E calcia fuori Incredibilmente Qui avete visto Tutto lo strapotere Fisico di Adriano Ovviamente Con la freccia verde In alto Che tiene Abbata Uno come bastoni Non proprio Una cosa facilissima Oh Maicon Perché non prendi Questa palla Ok Ci ha messo un po' Ci abbiamo fatto alla fine Pavarge L'alza Per frattesi Bravo Per Maicon Che arriva come un treno C'è anche l'inserimento Di Ciala Che però Non possiamo servire Maicon Fermato alla fine Non è riuscito A dare il pallone Bravissimo Cordoba invece E' tornato Anche Adriano Però è tornato A prendere questo pallone Un po' di confusione Al centrocampo De Bruyne alla fine Poi Maicon Deviare Ma non riuscire Alla fine Si è riuscire A prendersi Questo pallone E poi La scelta giusta Più che altro Si cercava Proprio la rimessa laterale Ragazzi In questo caso Non c'erano marchi Maicon Maicon di nuovo Per Frattesi Però da Adriano In mezzo a due Troppo però Ancora l'Inter Ciala Per Lautaro Palo clamoroso C'è Maicon Non riesce a rientrare Ancora Frattesi A recupero Però da rientrare Anche lui Mamma mia Di Marco Che intervento Bravo Frattesi Poi Adriano Di tacco Cercare Ciala Dall'altro lato Per l'Audi Che deve solo Appoggiare in rete Ma la giocata Di Frattesi È stata perfetta Nel centrocampo A saltare A Teo Fernandez Che a B Intanto velocissimo C'è La copertura Di Di Marco Che è precisa Poi Ciala Che l'alza Cercare Lautaro Appoggiare la palla Per Adriano Che fa un po' fatica A tenere questo pallone Però ci riesce Poi Adriano ancora Calcia col sinistro Sommer Stavolta dice no Al 45esimo Inter Ad un passo Dal 3 a 0 Ragazzi questi attaccanti Quando sono in formissimo Veramente non ce n'è per nessuno Calcio d'angolo C'è Barella C'è Barella Contro Bastoni E addirittura Barella Che va a vincere il contrasto Questa è una notizia Si Poi Forlan Ancora Ancora Veramente bravissimo Barella In fase di copertura Li hanno anticipato C'è sempre l'Inter Un po' di confusione Poi ancora Bastoni Ma non c'è più tempo E' finito Il primo tempo 2 a 0 Inter Cialanogru Ad aprire le danze Poi Lautaro Entra per adesso Tranquillamente incontro Non credo Ci sono stati azioni Degni di nota Per il Venezia Adriano che fa Correre frattesi Partito sulla destra Cercare Adriano Centralmente Che non sbaglia Sottoporta L'inserimento Dell'imperatore Perfetto Ha dato via Il lui Ha dato lui Là All'azione Nerazzurra Facile facile Il 3 a 0 Che ha tenuto Abbato a bastoni Una corsa Per un bel po' Di metri Non dico che ricorda Mbappé Ma quasi Più che altro Lo ricorda Per il risultato Perché Mbappé Più che altro Non si lascia prendere Nel senso che non riesce Neanche ad arrivare a contatto Visto che è troppo veloce Con Adriano a contatto Ci arrivi Ma nello spalla Spalla Non c'è storia Certo però Il risultato poi È che non riesci a fare gol Perché come avete visto Adriano non ha assegnato Per il semplice fatto Che Essendo pressato Il tiro poi viene Impreciso Vediamo Il secondo avversario Di oggi Stesso episodio Nello stesso episodio Vediamo un attimo Chi è Primo avversario Di prima divisione Roma 134esimo Al mondo Questa Mi sa Che è bella dura Sarà una partita Bella dura Questa ragazzi Vi dò Teo Hernandez Come uomo copertina Del nostro avversario Formazione Direi Tutti piuttosto in forma E ci fa piacere Vederlo E qui Brutta Brutta storia Di Marco e Carlos August Entrambi giù E in più Anche Darmian giù Quindi non c'è Veramente nulla da fare Bastoni a sinistra Non possiamo metterlo Cordoba Potrebbe giocare Ma scende di parecchio Non so se giocare A questo punto Veramente Cordoba Che tra l'altro Poi è destro Dumfries A sinistra Non ci può giocare Così come Non può giocarci Il buon Maicon Forse Pavard Potrebbe fare Il terzino sinistro Vediamo Si abbassa anche lui Di parecchio Eh ragazzi E' bella dura Qui a questo punto Come situazione Non so se mettere Cordoba E comunque in forma E potremmo metterlo A posto di De Vrij Indubbiamente Vediamo un attimo Poi magari L'attacco Magari ci teniamo Di Marco Ragazzi E vediamo se Come gira Per il resto Direi che siamo A posto così Nostro avversario Con Oland No ragazzi Quale Cordoba Assolutamente no Assolutamente no Non è Cordoba Quindi Mbappé Saka Con ali Super Larghe Mamma mia Mbappé 101 Centrocampo poi Incredibile Sakariaghe Sto vedendo più spesso Ultimamente Come mediano Mbappé Da un lato E Saka Dall'altro Vabbè Saka Ci siamo Direi che ci siamo Nessun cambio Alla fine E via 134esimo Al mondo Vuol dire Un avversario Comunque Fortissimo Voglio stare attenti E qui La scelta Poi Anche Dall'attaccante Oland Mi fa pensare A un avversario Che non vuole Semplicemente Andare con le ali In profondità Ma un avversario Anche che magari Gioca con dei cross Sarà poi tutto Da vedere Magari Un giocatore Come Oland Può essere usato Anche semplicemente Per un gioco Più semplice Dalla ripartenza Perché magari Basta fare un lancio In avanti Oland 99 palle su 100 Le prende lui di testa Quindi Anche questo Avere un giocatore Alto e forte Fisicamente in avanti Come punta centrale Aiuta Soprattutto per questo Bella questa palla Mamma mia Qui Adriano Ha provato a metterla Al centro Azione Subito L'Inter Fortissima Perché c'è Ciola E non c'è Di Marco Che alla fine Abbiamo fatto giocare Quindi Chiamo Di Marco Cercare bastoni Sul secondo palo Dietro per l'Audi Mamma mia Poi Barella al volo Mamma mia Qui Sarà che invece Prefisci giocare da Facciamo Palla a terra De Bruyne Che il pallone Lo tiene Bravo Pavard invece Che va da Barella Che la alzo Per Mkhitaryan Bello l'aggancio Va ad Adriano Lanciato in profondità Sulla sinistra Tutto chiuso però C'è Maicon Che guadagna Il fondo del cross Al centro Sta arrivando l'Audi La palla deviata E In realtà che poi resta Pericolosamente lì Poi lanciata Sulla destra Per Costa Curta Bravissimo Di Marco Qui Un po' di confusione La palla alla fine È per Ancora La Roma Gioca che comunque Molto bene Qui Giù Fallo Che Però non vini fischiato Per la regola del vantaggio Maicon Bravissimo Riparte l'Inter Il passaggio di ritorno Di Ciara Non passa E qui è un peccato Perché Ma che bravo Ancora Maicon Un anticipo Sanguinoso Può andare Palla al piede C'è qui Lautaro Non so perché Si è andati da Adriano C'è Lautaro Ragazzi Praticamente Non dico solo No ragazzi Non era per lui Ovviamente Miracolo di Giulione Ma non era per Maicon di nuovo L'ho visto già Frattesi in avanti L'ho provato a servire Qui in questo caso C'era anche Barella Non era per Maicon Assolutamente Quindi ci stava per costare Tantissimo Questo errore E poi Non so se chiamarlo errore O come chiamarlo Comunque Mamma mia Non ci credo ragazzi Che gol che abbiamo preso Gol di Mbappé Con La respinta di Giulione Non precisa Palla che passa Non la prende nessuna In vantaggio la Roma Non un buon inizio E un avversario Comunque ostico Bravo invece però A recuperare il pallone Qui l'Inter Con Miki Che guadagna il fondo Il cross al centro Per Adriano La palla respinta C'è nessuno però De Nerazzore In questo caso Questa è che tiene tanto Il pallone Bravo Maicon Mamma mia che bella azione ragazzi Scusate il silenzio Che è molto concentrato Con Che stupenda Guardate qui Lautaro C'ha la 1-2 In mezzo a tutti Ce la fa anche rivedere Sa che gli è piaciuta 1-1 Entra che pareggia Ragazzi uno gli lascia lo spazio Qui tutto quello che volete voi Però col sinistro Da fuori aria Col sinistro ragazzi Cioè Ok tutto Col sinistro da fuori aria Neanche tiro speciale Non lo so ragazzi Tutto quello che volete Giulioni non è un portiere Di Di seconda fascia Non so se Se mi spiego Abbiamo preso Due gol Veramente abbastanza Purtroppo C'è il gol dell'Inter Qui fortunati ragazzi Non volevo tirare così Volevo rientrare con la trena E calciare a giro Ha calciato Ci è andata bene Perché Lautaro è stato Attentissimo Ma questo è comunque Una grande azione Con L'Inter Che se ne è andata Con un 1-2 Poi anche Fortunato nel rimpallo In questo caso Bravo Bare Per evitare problemi Spazza Ancora Miki Cercare l'Audi Ma Non era per lui In realtà C'erano due Che stavano scattando Ragazzi Da questo lato Volevo andare ovviamente Da loro Dima Prova ad anticipare Ma Non c'è più tempo È 2-2 Ragazzi Il nostro secondo gol Un po' più fortunato Ma la verità è che Siamo arrivati Poi sotto porta Con un gran tiro Statistica un po' Secondo me bugiardo In questo caso Perché È più che altro Il nostro avversario Che tiene tanto il pallone Prima di affondare Però A livello di occasioni Noi ogni volta È venuto il pallone Abbiamo creato Altro i due gol Bravo Ciala che Anticipa Non era per lui Ma va bene lo stesso Direi a questo punto Maicon Come un treno Arriva e va Cercare Adriano Non ci va neanche Perché Adriano Non ci vai di nuovo Non l'abbiamo capito Mamma mia Ancora Maicon Che sta facendo una partita Clamorosa Mamma mia Per Ciala Abbiamo provato A metterla al centro Qui forse Bisogna giocarla Un po' meglio Ancora Maicon Che va di nuovo Da Michi In aria per Ciala Ancora Ciala Noglù Con questo recupero La palla per Rauti Che non passa Zaccaria All'entusiastica azione d'attacco Ha replicato una dimostrazione di Caparvietà di Pensina Mamma mia Miracolo di Giuliani davvero Ha tirato col destro però No ha tirato col sinistro volando Lì una bella parata si è rifatto Diciamo rispetto a quello che era il tiro di Bellingham Non proprio Qui lui calcia spesso da fuori Anche in questo caso Altro tiro dal limite dell'aria Comunque però Mamma mia ragazzi Orribile questo Orribile Mamma mia ancora non è finita Michi a spazzare No ragazzi Come se ne è andato Ma siamo stati sfortunati Perché l'avevamo capito dove voleva andare Ovviamente Bravo C'ha la Tilla Adriano che può andare Ancora per Adriano Tacco per Michi Mamma mia questa palla Che non passa Per un pelo ragazzi Per un pelo Ancora Ancora Michi che può correre Palla al piede Michi Adriano Adriano al 75esimo Parco incredibile E l'Inter fa 3 a 2 Michi sta facendo una partita clamorosa ragazzi Di Marco qui non è stanco Ma non mi sta piacendo Ma non mi sta piacendo affatto come gioca Se devo essere onesto Io non ci sto giocando molto Ma forse anche sapendo Condizionato dal fatto che sia così Noi abbiamo ancora le marcature sulle ali Con Una storia che si sposta a due punti a questo punto Ma Io non so se Cambiare onestamente 75esimo Adesso Roma che ha provato a partire molto più aggressiva Sempre così ragazzi Passaggio al centro Si è liberato Noi stavolta Stavolta però ci ha fregato nel dribbling Parigi a Olanda Immediato Sempre tiro normale Gli avversari hanno abbassato la guardia E loro hanno risposto con peemenza dopo pochi minuti Adesso la partita può diventare bellissima La difesa era ben schierata Ma è riuscito per un controllo Lo spazio E a insaccare Che giocatore Gli avversari non lo lasciavano respirare Ma lui se li ha mangiati Ha dimostrato classe E ottima forma fisica Nuovamente in qualità Mamma mia Se passava qui Non ho capito se non c'è la marcatura qui su Edwards Sull'ala Oppure no Mamma mia che intervento di Di bare Palo di Vorlana 87esimo Brivido ragazzi Mamma mia Brivido davvero Più che altro Le marcature Neymar Edwards Eh ragazzi Miki purtroppo Lo devo cambiare Perché La stanchezza si fa sentire Buona per Maicon Fratti si che va ancora da Maicon Tanto spazio per Per Douglas Che guadagna il fondo Il cross al centro A cercare l'Audi Non ci credo ragazzi Qui Bravo per Di Marco C'è un po' di campo Cercare frattesimo Non è fuori gioco ragazzi Fuori gioco di frattesimo 93esimo L'ultima azione Veramente un piccato Anche se c'era l'Audi dietro Magari se l'avessi visto Piccato Non c'è più tempo È 3 a 3 ragazzi La partita contro il Centotrentesimo Al mondo Ditemi voi Cosa ne pensate Partita comunque Combattutissima Faccio i complimenti Comunque al mio avversario Perché Ovviamente il modo Di giocare il pallone L'attesa Per la scelta giusta Sono tutte cose Che si vedono Tra l'altro Mi ha sovrastato In possesso palla Ma direi molto più semplicemente Perché noi Facciamo più in fretta Ad andare in avanti Lui si prende tutto il tempo Del mondo A partita comunque Dove forse Alla fine il pareggio Potrebbe starci A caldo vi direi di no Per Ma semplicemente Per i goal Che ho subito Tra l'altro Se pensiamo anche Quello sul calcio d'angolo Però Il gioco è anche questo Bisogna saper sfruttare Tutte le occasioni Che Che si creano Poi E lui è stato bravissimo In questo Ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Il pareggio è giusto Ne prendiamo 5 punti Ne rosichiamo 5 Mi aspettavo Un pochino di più Visto che comunque Lui è un top 134esimo Al mondo Quindi mi aspettavo Di prendere Qualche punto in più Però È così Fatemi sapere Cosa ne pensate Vi ringrazio Per aver guardato E ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima